bella per tutti e bentornati sul nostro canale io sono alessandro io sono ellie e siamo su this war of mine final cut allora siamo tornati vorrebbe rifare un video con questo gioco però da solo mi annoio si annoia un po troppo ha detto preferisco aiutare al mio amore quindi oggi proviamo anche senza webcam o camera insomma quindi ascolterete soltanto le nostre voci perché sotto sotto sono nude addirittura sotto sotto c'è giorgino e quindi niente proveremo così facciamo una ranna su this war of mine notturna in questo caso stiamo registrando che già sera piace non solo questo video ma tutti i nostri video vi va iscrivete al canale condividete lasciato un commento un like se vi fa piacere la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui futuri video che bello uno dice una cosa e lo dice l'altra che cari si vede che stiamo nella vera coppia tra allora detto questo riprova allora abbiamo varie varie possibilità allora c'è pablo intanto qui puoi scegliere oppure fare casuale possiamo forzare il contenuto di final cut che dice con questa opzione attiva avrai la certezza di giocare al contenuto di final cut un nuovo scenario con nuove ambientazioni in caso contrario verrà incluso in modo aleatorio se no c'è anche la modalità anniversary edition che dice probabilmente la stessa cosa abilitando questo giochi sicuramente all'università che include nuovi luoghi nuovi personaggi nuovi finale come ora la version edition che non avevo mai giocata ok chi volemo qui abbiamo una panoramica dei personaggi di cui marco è sopravvissuto quindi già ci abbiamo giocato con marco che dovrebbe essere il pompiere credo non so sicuro ma potrebbe come c'è sta boris erporo boris è sopravvissuto solo 15 giorni ultima volta allora possiamo scegliere uno ho visto tutti lì chi può dove fa comincia la partita chi sta più si fa io mi ricordo che bruno è quello il cuoco grave cucinare il suo come un turco se non c'è quello bravo con gli attrezzi quindi non sono tutti i personaggi qui ma solo alcuni allora se no mi sbaglio non vuole dire una cavolata se no mi sbaglio pablo è quello che c'è il 15 e quelle con pedino ma pavolo no pavolo è quello bravo nel combattimento è proprio personaggio base del giorno allora noi importante prende per me è importante prendere quella che c'è 15 spazio che sarebbe o boris che quello lento o forse marco prendiamo marco forse perché a prescinde prendiamo marco che è sopravvissuto che ti vuol dire qualcosa significherà vai marco perdere dove progressi ma guarda mi dispiace proprio voglio continuare se a solo lui possiamo prendere puoi scegliere uno solo che ne uno tro sceglie di uno da lui credo mo scopriamo tutto primo giorno anche questa è la partita classica standard non so quanti giorni sono cambiata la casa non avevo mai avuto questa casa e sì perché è un'altra espansione ok è un po diverso diversa perché quella tra parte che mette in città e mi sa che stanno pure da soli ma speri poco dai subito ci darà un altro sono certa eccoci qua dopo anni di assedio la città di povera sta lentamente morendo la fornitura di servizi è stato interrotto solo la corrente elettrica continua a funzionare il cibo e l'acqua scarseggiano questo quartiere è rimasto abbastanza intatto fino a poco tempo fa e la gente ha ancora qualche oggetto di valore addosso questo fatto purtroppo attira le bande marco pompiere ha combattuto vanamente contro le fiamme finché la caserma dei pompieri si è distrutta e la maggior parte dei suoi compagni di squadra è morta dopo aver portato al termine sia il termine non è portato al sicuro in campagna la sua famiglia si è trasferito in una casa abbandonata per riprendersi e decidere cosa fare che sembra giusta cioè se scoppia una guerra a tette porto dai tuoi e poi io me ne vado da solo una casa abbandonata normale non già certo è la prima cosa mi è che per me deve stare sicura come prima allora vediamo che stiamo da solo iniziamo subito a scelta le cose tanto è stata fa 22 gradi alla prima bisogna scavare qua bisogna scavare e io vorrei andato che non devo scavare inizio come te raccoglie subito non ci può andare di qua passati qua papà capì che lì è bloccato ma c'è stata scala qui andiamo bene un po sul rinco bemo capiamo perché è andato si è messo a sole no tu le ha detto di sedere no si pensavo che c'era qualcosa da prendere ho visto scena una sedia dentro al cassetto cosa c'è una fava niente qualcosa c'è un sacco di punto dove prende dai si 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 ma di legno un po di parti un po di roba per adesso lei non ci serve però con le panni con le parti con il legno ciao ciao per adesso niente di tanto importanti vediamo che si trovano in quell'armario sono le po ha visto le espluzioni negli altri non ha mai visto questo no c'è qualcosa di veramente diverso un polletto a io no prima è un grimaldello che serve per sopra e anche qui è infatti speriamo troviamo un altro che cosette non ho preso a questo punto io andrei un attimo qua sotto vediamo cosa c'è possiamo costruire ma già costruire e io mi vorrei fa un letto un letto la pala tavolo da attrezzi ci serve tanto ce la facciamo a fatto tutti e due diciamo il tavolo degli attrezzi possibilmente vicino qua ecco così si costruisce tutto qua poi casomai il letto qua giù l'esplosione di continuo esplode esplode strano che avevamo iniziato solo con lui non è mai successo si può darsi che allora e le dicono non sarà bussara la porta probabile spero è perché non è da solo povero poverino è un po in casino che tu esce l'art rientrano abbiamo un po che possiamo oggi facciamo siccome per chiedere la palla e io direi la palla ce la fai così giudice due si fa il pelle di porti la palla perché il tipo di portanti così anche quando al giro infatti hanno qua stesso qui dottor ma non so che ne pensate di questo gioco certo il periodo è quello un po meno adatto forse per qualcuno di voi può anche non piacere però noi l'ho voluto portare anche perché voglio fare anche della pubblicità perché in questo periodo le vendite di questo gioco stanno andando tutte quante a ai profughi di guerra insomma praticamente un piccolo aiuto che diamo giocando questo gioco si va acquistando acquistano questi gioco voglio dire ci sono stato brava vado con il gioco di parole ci facciamo si diceva direttore tutti e due prima del sessi il letto suo famo domani quando torniamo ci avremo sono solo ci costruiamo il letto e grimantello ce lo teniamo nel caso che da scambio la pala no questo è un attimo di fama che a mano che fa di mamma di prima ci mette un'oretta abbondante sono pure due cosa ci sarà dentro l'armadio speriamo qualcuno di porno ma deve usare degli malbelli la medicina una carottina o la roba c'è insomma andiamo a liberare qua abbiamo la paletta paleggiamo allora abbiamo un pollo una carottina venire una verdura una medicina amore di mamma ci abbiamo compagni ha fatto ha visto che addirittura fuori della casa c'era una cosa da prendere non è mai successo non avevo mai avuto questa situazione che non abbiamo sottosegato o il base o il final caso sai che adesso stava vedendo una cosa con i piedi di porco perché 4 poi usato il piedi pollo con i primantelli così solo una volta e proprio tutti se invece pieno di porco di più o nato poletto il piedi di porco fino a che la che resiste tanto col tempo e ci abbiamo ci andiamo a prendere ciò che sta qua fuori c'è anche la casa nei montagni nell'albero abbiamo trovato praticamente solo legno ma tutto via no no perché noi dobbiamo fare l'upgrade subito per tappa e bugie se abbiamo avuto un altro che rimandello guardate che dopo possiamo addirittura di stare quella casa lì perché è tutto legno mi sono dove c'è il legno che quando potremmo ve la ascia bisogna vedere ma adesso donna che fa spaccare l'arredi non così addirittura guarda che fino sopra ci abbiamo pure su e tre quattro piani allora di solito eravamo solo tre dappertutto ci sono armari da dovrebbe essere questo quello sì senti conviene fare il letto da questo qua no preferisco fare iniziato tanto non c'è la famora tra iniziamo l'upgrade così vediamo se ci stanno buchi da tappare verità che ci stanno buchi è tutto un buco sta casa vabbè sette e mezzo sette e quaranta ma non c'è senso che facciamo questa sera comunque da me in giro sì 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 per forza quando torniamo ma vediamo dai dai che ce l'ha fai non c'è non dovrebbe essere fatta allora provistiamo ci abbiamo 15 spazi tra la casa fantasma c'è pericolo no dice una limitata quantità di cibo materiali limitata di medicina e armi e parti se no c'è stata la villa distrutta un mucchio di cibo montagna di materiale un mucchio di medicina e montagna di armi e montagna di parte oppure la casa bifamiliare dove c'è pericolo no andiamo a questo punto villa disabitabili ma una casa fantasma va bene lì è piena di fantasmi può essere alle porto sicuramente per due giorni di puerco e la pala va bene così abbiamo solo 14 13 spazio poco non è un po pure che casa diversa alcune sono veri così no ma lì c'è genti sono vero dei rumori proprio fantasmi con l'occhio topolino intanto oggi e mi apro la strada questo lui è un abile rovistatore ma là sotto ci sono le sbarre quindi servirà più avanti una sega per entrare con dentro c'è qualcosa all'anima del qualcosa allora gli comincio a lasciare i bossoli voti mi prendo per sicuro una goccia d'acqua le parte le parte è tanto importante più in là aveva sempre detto che voglio raggi legno il paio di questi per ora questi lasciamoli tanto più in là non puoi andare vediamo qua cosa c'è un po ma sarà tutto topo anche sopra ma credo così una parte di questo per ora boh mi dispiace che lei ci sono due sia nei compartimenti si potevano un attimino rende almeno sei più accessibile ma non dico tanto almeno quattro quanto quell'altro ma prometti bene infatti a patria di tutto un letto acqua guarda che anche il zucchero è buono e lo zucchero per scambio è buono ma in realtà no in realtà lo zucchero serve per fare l'alcol e un altro spazio è quello che andiamo adesso magari c'è stato medicina che a quelli libri possiamo accogliali ma bisogna usare piede di porco cosa di utile già capito i libri possiamo anche lasciarlo i libri servono per bruciarli per fare il fuoco in alternativa al legno però quando un sacco di cosa c'è di importati sotto al letto che c'è stata medicina la medicina e allora lasciamo il libro mi prendo la medicina c'è un orsacchiotto tornavo dopo aprile solo queste cose si sigarette parti di art l'alcol scambio è buono lascerei lei è trovato dappertutto la sicurezza pure da scambio non è male lascerei sti ingranaggi per ora apriamo quest'altra porta ci abbiamo aperto tutto avrò certo possiamo venire senza niente a parte la seghetta se ci serve è proprio fa la seghetta ti servono le parti delle armi se mi ricordo male che stanno lì e vedere un treni tutte quale queste qua c'è il caffè transistor e basta qualcosa ci dice una letterina caro subira appena raggiunto questo paese che pensavo essere sicuro ho scoperto che era entrato in guerra ma non temere sto bene scrivo questa lettera mentre attendo un uomo che mi porterà via di qui di nascosto per la sua barca farò poi richiesta di asilo e una volta ottenuto ti porterò qui e sarebbero insieme lontani dalla guerra e della miseria aspetta e prego per me cofi spero che è riuscito ci andiamo a erci e abbiamo tutto pieno vuoi dire manca solo a parte ma noi se non siamo andati sopra l'ultimo piano si si no quello dove siamo stare non c'è il tetto smantellato speriamo che nessuno ci è venuto a casa nostra a romper le scatole ma anche se fosse non c'è niente e invece c'avevo la medicina grande cosa però era proprio importanti ma purtroppo ci potremmo fa nulla sono da soli resta anche poverino ho tutto a posto abbiamo incassato un sacco da finiamo l'upgrade vediamo se c'è stata la tappa dei buchi evitiamo gli attacchi notturni è bello averci un altro personaggio guarda che sopra c'erano tanta roba da prendersi ma che molto a posto buco e vado sopra è male pensare un letto poverne stanco non so facciamo prima riposare e si è male quindi di tappare i buchi poi fare il letto sembriamo anche se lui ha fame ma io faccio cucinare cioè costruiamo la cucina che neanche c'avevo ancora non l'abbiamo bucato si è bucato abbiamo tappato è vero perché l'altra volta avevo giocato non avevo subito tappato i buchi tutti i santi giorni ci venivano a rubare è stato un delirio proprio cucina così c'è tutto qua tutto cucina così quando cucina casomai in quest'altra sala fallo fare il letto lì beh dorme direttamente non sta troppo spassivo spassivo dispersivo si era un attimino diverso se arriva in russo spassiva che non mi sembra il caso in questo momento manco nominare certe cose allora diceva mullet c'è la fama fallita si 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 vedi se ce la fai proprio lì si ecco così facciamo casa e bottega si mangia si dorme e poi si esce prego si mangia si mangia si dorme e poi si esce e dove si va e dove si va non posso dire mi veniva di dire una cosa ma è meglio di non dire quella cosa comunque fa 21 grado ma non ti ho detto una partita che ho iniziato ieri iniziato pure con l'inverno a meno 11 o nel primo giorno meno 11 quello ferito grave con l'altro malato depresso e ferito fermo in maniera però noi stiamo attento mettiamo la scendevole da parte perché quando arriverà cavolo no allora mi serve il fuoco il fuoco c'è i libri ecco di così ecco lì con 3 litri 3 fuochi facciamo due porzioni da mangiare una sala mangiamo oggi è una data domani domani mattina mandalo subito di sopra poi quando finisci sopra se ci aveva ancora tempo vedremo di fare la la sega no perché ci sono un sacco di posto che ci serve la sega se no si farne due praticamente di porzioni che consuma sei acque e farne una te ne consuma cinque a me la fare due è ovvio sì la matematica fino a che puoi sì quando c'è i vegetali insomma che mangia c'è mezza giornata che poi domani sera se riparte adesso appena si metta a letto quindi possiamo fare termine al giorno la notte rovista ritornammo alla casa dei fantasmi oppure è aperta la chiesa di san meri bisogna fare attenzione però si può scambiare e c'è stata poi se non la scuola bombardata c'è pericolo no una limitata quantità di cibo montagna materiali medicina e parti andiamo lì io dico sempre io cerco sempre il posto dove non c'è pericolo e lo so tra una certa poi finiscono e per forza adattare questo che preferiscono sentire dire che le lezioni erano pieno svolgimento mentre iniziava tra un bombardamento per questo preferisco nell'inizio che facciamo subito questi posto tranquilli si 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 senza 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 non c'è niente qua cu 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 dei topi dei sorcis gli essercetti i soccini i pantegani i pantegani mazzano avremmo spiegati c'era solo a spalava spesso di legno come lei c'è una parola però è un posto molto grande e infatti potete trovare qui qua per chi non conoscesse sto gioco lo scopo è la sopravvivenza ma è la sopravvivenza dove di giorno gestisci il tuo campo base fondamentalmente e la sera un personaggio va in giro a rovestare mentre gli altri può decidere se ne hai altri chi fa la guardia chi riposa chi dorme in questo momento siamo da soli e quindi purtroppo devo fare tutto ecco qua un po' da robetta c'è nessuno non c'è nessuno e qua c'è la cosa c'è ci serve la sega qua eh dobbiamo tornare per posto ok qui a casa fantasma serve la sega la scuola serve la sega ok mettiamoli prima è sempre meglio da un'osservadina è un po' a cucù è una persona mi hanno di nuovo rubato il cibo vabbè però mi sembra una persona tranquilla non credo che salve arrivederci andiamo giù c'è un'altra persona che dormi? sì c'è una serie di persone avanti qua c'è qualcosa qui di nuovo un'altra sega però di là c'è la manina che si ruba è infatti vuol dire che è meglio che lì non ci andiamo di qua se anche ci andassimo c'è la manina è solo per rubare qualcosa e noi non vogliamo rubare e noi non vogliamo rubare noi non vogliamo rubare nessuno vediamo qua un frigorifero salve l'acqua prendi l'acqua allora lascio sicuramente due legnetti e noi abbiamo tutta l'acqua c'è tanta parte questo lasciamo altri due legnetti sì perché questo ci si è abitato eh sì in uguale misura ci servono tutte e due ma c'è tanta gente qua sì tutti senza tetto però sono tutti pacifici a meno che non gli rubi qualcosa e potrebbero risultare qui puoi guardare qua dice un miglietto per qualcuno ho preparato il nascondiglio segreto dietro il frigorifero come mi avevi chiesto ci ho messo a tempo alcune cose così puoi vedere se funziona va bene ma non possiamo qui lo tu beresti quindi non mi pare il caso andiamo su questo è un bagno qui forse ci sono la medicina va bene e lì si può aprire il compito infatti le lascia tutto l'elenco si prendiamo tutte le medicine che è la cosa più importante si lascia lei si non ci deve pensare stavo contando quanti legni c'aveva quante parti c'aveva e che te ne frega importante la medicina lei si trova ovunque è la medicina che abbiamo tanto difficoltà no? beh si beh si vediamo un po' sei la signora� bacchettone che chi pensa tanto le medicina tutto sto casino con tre ingranaggi che neanche potevano prende non puoi andare su? c'è tanti ingrenati, tanta legge, tanta cosina qui ci siamo stati, lì ci siamo stati, qui ci siamo stati, ma il piano è sopra allora dice qua, qua serve una sega, quindi che cosa c'è? ma qua non siamo andati a prendere? no, ancora no se puoi anche andare ancora sopra? si, andiamo ma qua ci sono tante parti dove deve segare, hai visto anche qua in questi piani? mi sembra ancora qui su sembra che non c'è niente eh dipende, vediamo un po' comunque è strano che di solito, questa è la seconda già, seconda notti di solito, chi mi ricorda non aveva mai iniziato una singola persona no, no, sempre in due è strana proprio un sacco di roba che te lo prende intanto sappiamo che, intanto qua come nell'altra parte, nell'altra casetta dei fantasmi è pieno di parte, pieno di legno, pieno di granaggio eh dobbiamo ricordarci che dobbiamo cominciare anche a fare le trappoline per per i pollettini si mette le trappole e bene fare tu ci metti, tu ci metti un po' un coso un pomodoro marcio, esce fuori poi una cosciotta di bollo non è un'indaga no no, per carità vabbè ti ha detto è pieno, è pieno di parte qua parte di legno e di eccetera eccetera questo è il canoglino del nostro vicino questo più amato si può andare ok ce ne possiamo andare sicuro l'uscita è quasi fine della notte e non aveva lì dove c'era sì sì, non aveva l'estate tornavo a casetta e vediamo se qualcuno ci aspetta c'è qualcuno ci ha preparato il pranzo nel pranzo abbiamo già portato la pena e pranzo avevamo preparato da solo quindi quello ci aspetta di sicuro e speriamo che non hanno mangiato è il terzo giorno da soli come si dice? meglio soli che mal accompagnati sono ripetitiva però non è rimasto certo lui poverino arriva si sedi subito è stacco ma che si dici? qualcuno ha fatto eruzione qualcuno ha fatto eruzione nel rifugio ha rubato la nostra torba ci sono presi tre polli una sigaretta e tre acque vedi? perché siamo da soli? non c'è poterlo non fa nulla non c'è poterlo 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 infatti il discorso è quello che le facciamo dormire? tanto tappamo un buco tanto ha decidi lui dove tappare sì sì ci sono dei punti predisposti son presi tre polletti mannaggia eh cosa che sei stanco? porta pazienza Marco ma se c'è da tappa a qualcos'altro se ci abbiamo pezzi sufficienti per tappa domani facciamo subito la pena finché come si chiama lì la maschadina lascia la maschadina credo di questo credo non è neanche detto che basta abbiamo finito etapa per fare le trappole ci serve legno e ingranaggi ricordiamoci che non abbiamo dopodiché andiamo un po su a sto punto e lo so se va a dormire felice a giornale cerca modo arriva tipo a metà giornale ma salve vorrei far parte di questo gruppo triste ma sicuro che non è che hai deciso te ti vuoi fare solo con lui io ho cliccato su di lui che mi piace usa solo quello scopriremo magari che vada è un'esperienza qualcuno arriva a qualcuno qualcuno possa la porta questo c'è la faccia del scambiatore forse forse parla che vuoi ce l'ho delle ottime notizie parliamo allora non ci crederete ma in qualche ente di beneficenza stava distribuendo cibo nella piazza del mercato pensavo che ormai ci avessero dati per dispersi ho preso tutto quello che potevo prima che i mortai dei gratni iniziare a sparare fossimo tutti così a correre ai ripari sono stato fortunato a salvarmi posso darti tre scatolette a voglia a voglia di mamma mia c'è questa con noi peccato tre scatolette basta in c'è una roba da tre polpa diamante per il scambio è molto buono per una persona sola abbiamo tanta roba principalmente le medicina che ha rara medicina scatolette medicina piccola medicina ecco c'è mancano le bende però qua dentro c'è un armario dove troviamo di solito il medicina e le bende potenzi così poi se ne va a dormire e poi decidiamo che vogliamo fa io dire di non le fare andare da nessuna parte questa prossima notte e capo bello ho già detto che da qualche parte c'era una venda ok se ne va a riposare e poi fa la quale non le facciamo uscire e ho capito non facendo la guardia non prenderlo le facendo stare a casa che poi puoi fare un sacco di cose notte il giorno andiamo ma faccio quello che mi consiglio faccio la guardia e rimango così non ci vengono a rubare speriamo anche se fosse allora qualcuno ha fatto eruzione ma marco è stato ferito leggermente e quale si è difeso ma purtroppo è stata bella e stava benda subito non ci voleva la medicina non c'è bisogno mangia una scatoletta o cucino due porzioni però non è giusto vuoi dire che ci sono ancora le bocche no no perché è scomparso proprio il discorso è che il gioco è tarato che te devono venire a far da fastidio vorrei fare l'upgrade di quest'altro tavolo per fare gli altri attrezzi vuoi tornare indietro nel tempo che no ok non si può fare l'upgrade perché ci manca legno co tu ci manca tutto ok potrà dormire perché stanno ma qua abbiamo fatto tutto qui abbiamo fatto tutto a parte sopra abbiamo guardato tutto qui abbiamo guardato tutto sotto fuori anche non mi sta per niente bene questi gioco così non mi sta piacendo proprio ma resta modalità hard core perché leggermente ferito è bendato ed è in recupero perché sta dormendo non puoi prendere la medicina non dice che non serve non è malato allora o aspettiamo così per vedere se arriva qualcuno oppure fanno termine al giorno tanto se arriva qualcuno del vento rompe ok la notte è toccano in giro si andiamo dai leggermente ferito che andiamo a fare se è ferito mi fai dormire se vengono e rubano passi alle norme va di per dormo a letto si entra una roba la pazienza se noi lo facciamo guarirlo prima tranquillo se non è guarito c'ha solo fame vedi mangiare una scala è meglio così fidati e da solo devi stare pure malato no li guarimo prima ok il problema è che noi non ci abbiamo niente da fare come non ci abbiamo niente da fare dentro casa non c'è niente da fare del giorno non puoi andare a rovista non puoi fare niente upgrade niente eh no ci manca ci manca tutto vediamo se possiamo costruire qualcosa ma questo cambista non arriva a lui c'è sempre possiamo costruire una radio ma che ce ne frega della radio possiamo fare i filtri oppure il fuoco è un po coi libri ma facciamo due fuochi questa notte lui sta bene no già guarito giusto e questa notte li mandiamo in giro ed è qua che cosa possiamo costruire un altro piatto di porco è un coso per il coltello ci serve sia il legno che le parti la parte che tu non hai mai voluto prendere non ci sono vado tante non ce l'hiamo fatta vado termino ok allora tornavo alla casa casa fantasma però deve un portare la che cos'era è la sega che però non ci abbiamo quindi andiamo senza niente e chiappiamo tutto ciò che è rimasto così senza nulla abbiamo 15 spazi e via principalmente parte ingranaggio il legno solo queste tre cose ci serve si legno e ingranaggi questi sicuri parti di armi tanto qua abbiamo lasciato una marea cominciamo dal frigorifero cominciamo dal frigorifero l'aspetto in qualsiasi giù andiamo giù cosa abbiamo lasciato qua bene che quasi è la sega ma non abbiamo i materiali che poi ci saranno le medicine perché dice che qua ci avremo la sera si sia ancora accessibile se alcune zone diventano inaccessibili ci serve proprio quella quando poi lasciata lascio lasciamo dieci zollette dice di non è piace poi il barattolo il barattolo ma lasciano mai i proiettili vuoti dici ok e ci prendiamo le parti sì sì e qui pure c'erano altre parti di armi se non mi ricordo il modulo però ingranaggio ci servino sì ci serve l'ingranaggio posso lasciare queste prendere l'orsacchiotto che mi sembra che a livello di scambio a livello di scambio è un po meglio quindi lascio questo mi rende l'orsacchiotto vediamo qua dentro abbiamo lasciato e poi saranno allora partite le armi ingranaggi l'altro l'orsacchiotto legna no potrebbero ma speriamo che non sia entrato nessuno e le parti gioco gioco per favore ci fai ci mandi qualcuno infatti che non sia un bambino però per favore no 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 i bambini era col nonno non sono ci stanno anche i due orfani che vanno in giro soli no no la signora la signora la bambina e troppi ce ne so vediamo facciamo le zampe ma giorgino in croce zampine che dopo di qualcuno entrato si sono presi una scatoletta due polli e sette acque ci hanno messo col culo per terra non ci abbiamo più da mangiare attimo dobbiamo essere sicuri di poter difendere il nostro rifugio altrimenti siamo spacciati e mini anti uomo dentro dentro casa andiamo subito che cosa che dobbiamo fare l'upgrade non c'è manco da mangiare come carote però non mi pare al caso di buttare allora l'upgrade c'è manca il legno andiamo un po costruire manco questa che c'è manca una parte di arma che vediamo di qua allora qui possiamo fare varie cose queste ora qui c'è manca un legno quindi non è detto che non è finito il tappo infatti potrebbe ancora servirci e che vogliamo fare non possiamo fare niente stiamo fermi o mandiamo a dormire senza mangiare perché non abbiamo niente siamo passati da otto due palletti e tre scatole a zero tutte le note ci stanno a venire a rubare non è giusto questo vive da solo come un'eremita termina ok c'è l'aeroporto che però c'è pericolo piccolo caseggiato far attenzione c'è la villa distrutta che non dice niente la casa bifamiliare con il pericolo se no c'è la scuola bombardata che hanno lasciato un po di roba ma non c'è non c'è più da mangiare c'è più niente lì villa distrutta un mucchio di cibo andiamo lì solo con la palla piede de porto e speriamo trovato al padano già questi poverino e speriamo che nessuno rientri di nuovo ma è perché lì avevamo l'importante luce noti toscano importante abbiamo sale medicina a casa ha detto niente ma faccio 44 situazione credi qualcuno c'è però credo che siano come dall'altra parte allora ci serve il legno diamo priorità al legno qua non c'è più niente qui posso solo guardare quindi vado su e vi diamo un occhiale e vediamo chi è vediamo se è armato o non è armato è andato dell'altra parte già lui è andato qui che ci dovrebbe stare roba da mangiare io anche io entro qua c'è se potete nascondere anche sopra sembra che c'è gente anche piazza di arrivo tutto io mi nascondo intanto che mi sta tornando come metto a capa la mano vediamo chi è ma da non averlo perso devo trovarlo mi dà noia averlo perso l'attacco lui è armato no boh non si capisce ci deve essere stato qualcuno qui se ne passa vicino l'attacco se ce lo se ce lo togliamo da mezzo è qui il bastardo ciccio stai calmo via però vi è qua ok ho avuto chiacchiere è sopra o è un topo ti ho trovato a chi è chi ha trovato non è vero non mi hai visto non mentire non mentire non mi hai visto questo è brutissimo no capito un coltello lascio il libro avrò il cartello noi abbiamo un'arma cibo fame allora cominciamo l'orzacchiotto sicuramente a favore della scatoletta il transistor a favore di tutto il colletto che posso piano l'acqua quindi lascerei due ingranaggi ci servono le parti due o tre quattro parti dove prende tutta l'acqua ma adesso lo lascio e c'è un colletto diciamo e l'entra vanno dappertutto continuiamo a cercare praticamente dovrebbe stare da solo questo in teoria però di cano lo so tanto legno tanto legno in tante parti ci dobbiamo tornare si tornava su e vediamo su c'era un segno ma credo che fosse questo qua credo sia un topo andiamo comunque a vedere l'arma parti di armi ok userebbe una sigaretta ma per adesso sta bene dove stai nell'armadio l'arma parti di armi e il pomodorino per adesso aspetta qui ci sarebbe tanta legge andiamo su qui adesso passando da qua magari vediamo qualcosa l'arma si una persona il caffè il caffè per adesso sta bene qua comunque è la persona ok si tanto vado a cuore bagno forse è medicina e qua c'è i rimediani si lascia lei fregati la legna no lascio vabbè due pezzi di legno sicuri per una bella poi lasciamo otto parti due quattro sei i due legni la medicina grande e la medicina piccola lasciamo a stagione tipo quattro io provo a correre e nascondermi qua lui sente il rumore l'odore e pescende l'odore e pescende non scende andiamo vederci spero anche quello non ci segue no come funziona di solito quando fai rumori così loro ti vengono a cercare poi c'è rimasto lì forse sta aspettando l'altro che non tornerà più è vero mamma mia che brutta roba che ti ha detto bastardo ti ammazzo che faccio sono solo entrato buonasera ho preso due cosette eh però brutta roba però eh ho capito per quelli che sono entrati a rubarci dentro la casa a noi è tutto un po' così e qua che succede adesso? no no speriamo basta incursioni che noia ma tutti i giorni che vi siete rubato a noi no tutto ah no aspetta questo ci hanno rubato questo è quello che abbiamo portato due fuochi otto acqua e la carotina dallo subito la scatola che c'è da subito da mangiare all'olio quando vogliamo fare dura questo questa questa parte direi che finimo a costaggio c'è un tappo al nostro buco vediamo se possiamo fare un upgrade facciamo un'oretta facciamo anche una partita da un'ora no se non ci sto tanto che dici ci vedono ci vedono qua tanto è un gioco che siccome potete vedere score molto velocemente velocemente e senza noia non è che c'è quella parte non ho detto gioia vero non è annoiato a meno io non mi annoio comunque un altro buco c'era e lo stanno a tappare e speriamo che con questo non ci vengono più a rompere vediamo se vediamo se ce ne sono altre dei buchi nel senso vediamo se possiamo ancora costruire io secondo me nell'inizio ho fatto qualcosa di sbagliato in questo gioco perché non ho mai visto un gioco con una singola persona ok vedi non ci stanno più una volta è successo che siamo iniziato con due ma una mano arrivava l'altro noi mai nei primi giorni no siamo a 6 7 giorni da solo direi che secondo te scegli così i bambini che vogliono la medicina due bambina la capocciata venite per bambini a vivere con me abbiamo diversi sono abitiamo del senso la nostra mamma è molto malata e ha bisogno di medicina ce ne da resti un po se non l'aiutato e morirà da quando papà bla 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 li aiutiamo diciamo due di quelle grandi aiutiamo e me l'aiuto a loro che avevamo solo due cacchio e non ci siamo quattro due a loro e me l'amore che noi banditi e due anni si vabbè quello che non potevo rifiutare di aiutare quelle povere bambine sarebbero sarebbe stato in mano ci bilanciamo l'omicidio con l'aiuto dopo non si è metto a dormire e noi finiamo il giorno sembrava che qualcuno aveva bussato andiamo a rovestare continuiamo a ritorniamo lì che era la villa distrutta no non me lo ricordo più lo sai qual è la villa distrutta se questo può deve importare niente tutto aperto no tu sopra b e macina quello o meno se lui ci viene attaccare e guarda il tavolo installino capite guarda che sia io un po paura invece fanno andare a controllare ma che ho lasciato la porta aperta si sia lasciato la porta aperta ma come a che non abbiamo portato niente non mi sono ricordato che c'era questo però col pugno che fa tanto chiudiamo passando da sotto se riprendiamo subito senza buttare niente vediamo solo quelle che ci interessa veramente che legno ha tutto quello che ci serve con quello lì vedi qualcuno tu non possiamo entrare se non mi sbaglio lui sta ancora su anche tu in un tratto non lo vedo tu li vedi ah eccolo mi metto qua vediamo se c'è passato avanti ma se c'è passato avanti non scappare vieni qui manca qui manca qui lei sta chiedendo aiuto no no che chiedi aiuto a chi ho come da zero ci ho provato ok ciao questa macchia d'aiuto a chi è qualcuno possibile che non c'è niente la parte superiore non c'è nulla non c'è niente ma dove sono tutta la roba che c'era non è successo qualcosa è successo qualcosa forse aveva portato tutto giù dove c'era la simbolina che c'era le cose adesso è bagato non li vedi questo simbolismo perché aspetta stavo col pugno quando stai col pugno non puoi rovistare ritorno su vabbè faccio questo qui ho messo agitato ok a che lo dici da carcinco la gente quando fai questo ma lo devo fare l'ha fatto adesso basta così ma le tessuale al primo frigo per bette abbiamo corso dietro al fame le tessuale al primo frigo si è che abbiamo lasciato il frigo si perfetto ma lui cosa c'aveva poverino niente lascio due pezzi di legno a prendere la sigaretta la scatola della medicina lascio due pezzi di legno ci abbiamo ancora in spasso libero però la verità del vetto non c'è qualcosa una solitura piuttosto semplice dovrei riuscire ad aprire ma non c'è piatta di porco siamo andati giù all'ultimo piano sì c'è una lettera d'amore sembra che il proprietario della villa si è innamorato di una donna che gli ha curato le ferite almeno ha trovato un po' di conforto peccato direi che è meglio che se ne andiamo tanto non c'avevo spazio per nulla eh infatti vai dirci mi spero ma adesso torno a casa che non ce l'ho portato via se no vado in giro faccio fare la fine di quelli che io fai a cazzotti pia la gente mamma mia quanto sei violento non mi piace questo gioco violento eh ma se lo giochi da pacifista 8 giorni non ci arrivi neanche è che sì ma infatti è assurda sta cosa poi lui mi insiste a dire dobbiamo rendere più sicuro il coso ci metto l'urzacchiotto col pugnale in mano eh sì è arrivato qualcuno speravate una perché veramente oh ti è scossato che vi siete presi due bolle due acque vabbè vabbè ma siete proprio fastidiosi ho fame maniare la scatoletta mia vabbè la rubata è depresso è stanco, ha fame, ha depresso ma da dormire ascoltate se non ci siamo a fare l'upgrade vedete questo anzi prima cosa c'è sia bucchito da qua no no ma non è questo si no è compare qui era quindi non c'è quindi vuol dire che dove sta Giorgino? no da qualche parte l'upgrade vado a controllare da poi Giorgino vado vado sì ma così è comincia a essere un po' che è successo? no dico comincia a essere un po' fastidiosa la situazione non puoi usci perché entrano se rimani non fai un passo avanti oh ecco la sega ce ne servivano io ne posso fare tre oppure quattro ma l'ascia peccato l'ascia ci serve il legno ci servono cinque cose per fare l'ascia al che facciamo una sega sola sì lo produco una sola e torniamo al primo posto dove eravamo stati che serviva una sega sì ok siamo stanchi vai il letto e poi andiamo lì? ah è arrivato qualcuno c'è qualcuno c'è qualcuno che vuoi stare con noi le mandiamo subito ho qualcosa per te ok che sarà? non so spero una mano allora sto cercando la mia amica Anna abitava qui prima che iniziasse la guerra speravo di trovarla era sempre mezza malata e sta diventando sempre medicina per trovare delle medicine quindi ne ho portato alcune per darle potreste darli potreste metterle da parte e dargli se passa oh a voi guarda questo aspetto Anna ma è con noi nessuno eh la sua biografia dice quest'anno è fortunata di avere un amico così la maggior parte delle persone si sarebbe tenuta per se le medicine tipo noi no noi le abbiamo dato due dai bambini vai termina giorno sì ma così noi andiamo a rovistare nella casa fantasma che era dove serviva la sega la sega e se vi è ancora il piede di porco come sa da 9 ma non me lo ricordo credo che no perché abbiamo aperto tutto tranne giù che c'è l'appunto però magari dietro la cosa con la sega magari c'è qualcosa da forzare e non è possibile ma questo è troppo sì sì qua è solo troppo qua è solo troppo sì qua si viva la sega ok si può si può prendere senza senza rubare ma qua c'era gente no che potete di troppo no dico si può prendere senza dover usare i piedi di porco ah ah ma c'avevo paura che ora apro qui e serviva il piedi di porco ah 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 fortuna vabbè c'è un sacco di roba c'è un sacco di roba ha detto di infatti medicina picco medicina grande palotola quella c'è si allora lo sacchiato prende così sono già quattro a casa no si si prendo l'unica gocciolina d'acqua che c'è visto che c'è un rubato otto infatti vediamo un po' a vedere se abbiamo lasciato qualcosa un po' a vedere se abbiamo lasciato niente da nessuna quasi da quella forse qui pure qui qualche pescettino di legno a te siamo confi niente a meno qua possiamo veramente dire qua abbiamo finito basta si qui non ci sono solo ci sono solo ci sono solo ci sono solo qua la goccia d'acqua io lasciare una goccia ma vabbè vabbè a fronte di cosa dici del legno no no c'è questa per legno o erba eh non lo so perché più c'è legno che da quello che ho visto è quello che ci serve di più qui cosa c'è niente legno vabbè ciao bella come vesti queste ormai sono dieci giorni 8 noti che è stata solo e mi è anche depresso è anche depresso è normale non può parlare con nessuno eh perché se parlasse gli si abbassa eh gli facciamo palla a radio così senti un po' di può darsi possiamo provare fanno un tentativo perché sennò o la chitarra è venuta da rubare? speriamo da una arma ovviamente dai ma c'è niente da fare cioè ci hanno preso 3 polli una sigaretta 8 acque e fuoco e vabbè ma no siete proprio cattivi no questo proprio è iniziata proprio sotto una cattiva stella questa situazione e non mi dà la sensazione che possa migliorare ah fa mostrare vediamo se magari se lui si sente un po' meglio metti vicino al frigorifico va letto? dove sta a letto? ecco vicino a letto così senti la musica vediamo se vediamo se no se sicuramente possiamo fare l'ascia e con l'ascia possiamo sfasciare le cose dentro a casa eh dopo che finiamo la radio ah noi c'abbiamo fame ma non c'abbiamo più niente ah infatti ci sono presi tutto poi dopo dici che invece ammela la gente eh tanto non la cioè vedi comincia a ferci tanta casta a far far tanto inutile questa trampoccia abbandona psicologicamente proprio accendila il caffè sta diventando sempre più raro nella città assieme a sediata è prevista l'aumento del prezzo del caffè sul mercato che sta dall'idea che se c'è il caffè è buono di scambio i prossimi giorni saranno caldi e piacevoli anche se è un po' ventoni e ok beh vediamo se c'è un po' che vuole dobbiamo fare l'ascia isso si accendono le cose che tu puoi rompere e poi in questa casa credo che c'è un po di roba siamo comunque ancora a 18 gradi chi se ne importa comincia a fare queste cose non si uccideranno tutti le armi adesso c'è anche la pistola il fucile alla pistola e vedi qui te manca nel metto che te manca il fucile e qui te manca proprio la pistola rotta ma noi avevamo i pezzi delle armi allora vediamo un pochetto possiamo rompere il letto ma non è parlando lasciamo da sopra anche se lui è stanco per mezza giornata lasciamogli a spaccare la roba ma è sfogate quanto legno ci dà quattro legno e tre fuochi buono perché i fuochi ci hanno rubato abbiamo tanta roba da scambiare quelle lì non ci passano e possiamo andare a noi alla schia alla chiesa lì c'è quello di scambio dice però se loro venisse fare meglio sicuro nell'albero la testa della cadena altro ciò poi potessi raccontare lo scrivo non è meno di netti a questo leo ci serve sempre a legno e fuoco di da imparare le cose due cose importanti già fame ma maniata lei dai facciamo così prendiamo un po di cose andiamo sulla chiesa a fare un po di scambio quando si sveglia a me non fai di scatole però io direi fai una cosa dai rete a me una volta della vita vedendo sempre tutto prende porta porta noi se facciamo con noi le medicina e la venda a meno si rubano sempre diceva bene se può costruire a troppo ingranaggi ricordiamoci ci servono il granaggio ma allora guardiamo tutto questo buonanotte non deve dormire noi portiamo i diamanti portiamo i caffè che abbiamo visto che è buono per scambio allora abbiamo detto che la chiesa scambio possibile sembra proprio col prete allora ci portiamo la benda il caffè il medicina grossa sicuro ma pure quelle piccole per detto da scambio e poi diamanti devo lasciare qualcosa diciamo sterbetta qui porto solamente il diamante lasciamo due medicina e piccole a casa ci portiamo l'alcol a meno si rubano da lascia l'erba lascio dieci zuccheri ho fatto gli ossacchiotto ho quattro ossacchiotto ho visto però che siamo pieni sono venuto a per provistare che c'è uno zaino che fornitare un zaino e qui in questo momento è già una cosa che non possiamo prendere niente troviamo prima lo scambiatore che dovrebbe essere il prete giù in fondo mi pare oppure giù che c'è il prete benvenuto ci hanno derubato stavate qua il vero che entristasse la casa tocca statenti perché lì sparano cioè devi far bravo mamma mia è sicuro che lì ecco è qui dentro scambio io non mi ricordo questo fatto perché non ci fa entrare se vediamo se sta sotto allora qui già c'è roxy migliore cane del mondo io mi ricordo che era nella chiesa non deve non devi andare all'altra parte allora il prete con eccolo e prima non ci voleva scambiare con me perché stava antipatico scusi signor prete facciamo scherzi giochiamo allora a noi cosa ci serve lui non c'è niente è preso di noi stai messo veramente male amico minuto prendi il trepolletto eh 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 dacci i trepolletti uno, due, tre dà l'esuccaro, né tanto alle mezzo le parti delle armi va bene sinceramente no che te ne fai medicina grossa no i libri da bruciare ma neanche basta trepolletti dalle zuccare dalle erbe sicuramente non basteranno dalle erbe sì andiamo con le cose ecco a posto non è che cosa che c'è questo e prendere nel posto di quello andiamo a prendere un po' di legno lasciamo uno spazio voglio solo allora qui sotto c'era qualcosa ma che te ne frega se non possono prendere qua eh magari lasciamo quell'erbetta volante che avevamo ok qui non c'era niente quello considerato furto che le devi andare e vado via ok c'era fuori il legno sì qua in mezzo a queste cose c'è ecco qua nessuno c'era una scatola non non ma se non arrivi a casa le fai cocere prendi il legno devo usare il legno io andiamo ma le che vanno quando torniamo a casa ci hanno rubato il legno sì no io e chety ci ha capisci gioca da soli e a sto gioco è proprio tremendo esasperante già in due difficile invece due personaggi ma da sola non è venuto nessuno stasera strano come cucina a meno treppolino cucine non possa che non c'è l'acqua giustamente dai un magno crudo guarda un magno crudo basta ma poverino capito che buono ancora fame ne mani un altro altro si rubano ma c'è il bicchiere di vino imbriaco si sembriaca a casa se stanco lascia un po senza terminare il giorno vediamo se si arriva l'itali scambi si arriva qualcuno scambi scambio amore e come si dice scambi così è tosto e tosto che non gliela fai comunque io direi che per oggi ci possiamo saluta qua passata quasi un'ora dieci giorni stava una situazione abbastanza critica già una cosa non facciate detto questo raccomando scrivete al canale lasciate un commento condividete o arrivano per me tutti alzate di questo scambio scambista si è scambista acqua acqua ci stai bianco la pollo c'è qualcosa allora la scatola 1 2 3 scatole aspetta pollo non c'è niente sto vedete se c'è carote non ce l'ha allora io c'è il caffè il caffè vale tanto intanto tutto e le sacchie occe le erbette che tanto non ci faccio niente c'è tre cose ruoti diamanti sacchietto diamante la maga dobbiamo rincia qualcosa aveva un po letto con polletto e meno per i piedi orzacchietto volete matto non ha parlato la meri più nervetta famo precisi stanno va bene ciao 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 almeno adesso fallo mangiare scatole non c'è fame adesso stanno andando a mangiare una fame queste sono maniati i tuppoli crudi che buono lasciamo normale vediamo se arriva qualcuno no esce l'incontro a botta fa una cosa no cosa al giorno può succedere un evento qualcuno che arriva poco dicevamo iscrivetevi al canale lasciato un commento condividete la nostra disperazione come il like se vi piace e attivate la benedettissima campanellina per sapere quando uscirà il prossimo gameplay super 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 super